Alla festa della Lega di Pontida, quattro dei sette assessori regionali veneti presenti sono saliti sul palco assieme a Luca Zaia. Tre sono rimasti sul prato, Roberto Marcato, Federico Canere e Giampaolo Bottacin. Una divisione fisica che in diversi interpretano come specchio di una speccatura politica, di una contrapposizione di visioni, per cui di fatto in Veneto oramai esistono due leghe. Una lettura che però Zaia smentisce. Noi siamo un partito che è ben definito anche dal punto di vista gerarchico. E quindi il segretario è uno, i segretari provinciali sono quelli che sono stati eletti. Funziona così in democrazia. Dopo tu puoi condividere o non condividere le idee, ma la Lega è una. Quindi la scelta dei tre assessori che non sono saliti sul palco significa che non condividevano le idee? Queste sono tutte supposizioni che fate voi. Dovreste chiederle agli assessori. Per me sono tre militanti che sono venuti a Pontida e basta. A Pontida Zaia ha parlato di autonomia. Eppure proprio la lunghezza di un processo che ci si aspettava molto più rapido e la priorità che viene data dal Governo a questa riforma amministrativa ha finito col farlo diventare un tema divisivo. È proprio l'autonomia però che divide. Perché una parte della Lega, anche in Veneto, dice non vorremmo sentire parlare del Ponte di Messina ma dell'autonomia. Ma guardi, anche qui. Allora, noi abbiamo un progetto di Governo che prevede anche il Ponte di Messina. Non l'ha portato Luca Zaia del Veneto, l'ha portato qualcun altro, giusto? Ma c'è anche un progetto nel Governo che prevede l'autonomia che l'ha portata il Veneto. Nella mia assemblea di condominio, se vai con il 10% di millesimi, il 20 o il 30, torni a casa se pretendi di decidere per tutti. Ognuno ha i suoi millesimi. Oltre alle vicende interne al partito di maggioranza del Governo regionale, come il resto del Paese, il Veneto si trova ad affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria raddoppiata nei numeri rispetto all'anno scorso. Saranno circa 200.000 arrivi rispetto ai 105.000 dell'anno scorso. Almeno 150.000 dei 200.000 sono migranti economici che non hanno titolo di richiedere nessuna forma di protezione in Italia. Vuol dire che sono venuti qua ma non hanno titolo di restare qui. Il tema dei rimpatri è un tasto dolente. Sono circa 4.000 all'anno, ma solo in Veneto, nell'ultimo periodo sono arrivati 9.000 nuovi migranti. Per Zaia è come cercare di svuotare il mare con un secchio. Dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte.